Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ospite di Mattino 5 su Canale 5, proprio oggi, lunedì 20 di maggio, torna a parlare del confronto TV con Ellie Schlein. Dice che in Europa ci sono due modelli, c'è il modello centralista della sinistra, quello per cui l'Europa deve decidere tutto, il luogo degli stati nazionali, e c'è il modello conservatore, secondo cui l'Europa si deve occupare di alcune grandi questioni sulle quali gli stati nazionali da soli non sono competitivi, ma il resto va lasciato alla competenza degli stati nazionali. Questo mi sembra assolutamente corretto. E poi parlando, come vi dicevo, del duello televisivo con la segretaria del Partito Democratico, Ellie Schlein, in vista delle elezioni europee 2024, dell'8 e del 9 di giugno, dice che il confronto sarebbe stato un modo per capire bene cosa cambia se vince un modello o se vince l'altro. Dopodiché, ha dato fastidio a qualcuno, ne prendo atto, lo faremo in altri modi. Allora, sarebbe stato un modo per capire cosa cambia se vince un modello o se vince l'altro, questo non lo so. Non so perché, come vi dicevo, le due tifoserie, le due donne avrebbero detto delle cose diametralmente opposte. Per esempio, non so, tema dell'economia, la Meloni avrebbe detto che tutto va meravigliosamente bene e la Schlein avrebbe detto che tutto va meravigliosamente male, che fa tutto schifo. Non so, poi il tema del lavoro, per esempio, la Meloni avrebbe detto che tutto va meravigliosamente bene e la Schlein avrebbe detto che tutto fa veramente schifo. Sarebbe stato un'ora di confronto di questo tipo, dove da una parte va tutto bene e dall'altra parte va tutto male. Da una parte c'è fascismo, dall'altra parte non c'è fascismo. Sarebbe stato tutto assolutamente così. Voi siete contro i poveri, noi siamo a favore dei poveri. Noi vogliamo abbassare le tasse, abbiamo abbassato le tasse, no, voi le avete alzate. Sarebbe stato, o sarà, chi lo sa, un confronto televisivo dove le due direbbero delle cose diametralmente opposte, dove non ci può essere neanche un confronto. Per esempio, se una dice abbiamo abbassato le tasse, l'altra risponde avete alzato le tasse. Tu che cosa capisci? Una dice alzate e una abbassate. Una l'economia va bene e l'altra l'economia va male. L'altra dice stiamo fermando i migranti, l'altra dice non è vero. Davvero da un confronto di questo tipo si evince cosa cambia se vince un modello o se vince l'altro? Direi proprio di no. In un confronto di questo tipo si possono fare promesse elettorali? Direi proprio di no. Perché? Perché in Italia adesso abbiamo il problema di trovare decine di miliardi tra il super bonus, il patto di stabilità, la conferma dei tagli al cuneo fiscale e della rimodulazione dell'IRPEF. C'è da trovare, c'è chi dice 30, 40, 50 miliardi e non sappiamo dove trovare questi soldi. Quindi non puoi neanche in un confronto televisivo fare promesse elettorali, non lo so, adesso metto 20 miliardi sulla sanità, eh? Da domani mattina metto 20 miliardi. Oppure la Schlein che dice se governiamo noi possiamo mettere subito i soldi sulla sanità. Ci sono anche promesse elettorali che non possono essere mantenute, non possono essere neanche dette. Quindi diventa solo un confronto tra da una parte tutto bene e dall'altra parte tutto male. Secondo voi che cosa porta in più? Niente. Tutte le cose che sentiamo tutti i giorni vengono concentrate in un'ora. Tutto bene, che schifo, tutto bene, che schifo, tutto bene, che schifo. Così per un'ora. Poi finisce l'ora. Bene, signori, avete visto il confronto, vi siete retti fatti la vostra idea, dice l'idea. Da una parte tutto bene, dall'altra parte tutto schifo. Che idea ti sei fatto? Il tifoso di sinistra dirà, eh, la Schlein gliele ha dette, fa tutto schifo. Il tifoso di destra dirà, eh, la Meloni gliele ha dette, va tutto bene. Quindi il confronto televisivo serve così, per passare un'ora, ma sinceramente non è un modo per capire quale modello vince e quali sono le proposte. Ecco. La Meloni dice che ha dato fastidio a qualcuno questo confronto televisivo. Sì, ovviamente ha dato fastidio a tutti gli altri partiti perché hanno visto una polarizzazione del voto, quindi si sono opposti in nome della Parcondicio, che la Parcondicio vieta un confronto solo fra due leader. La Parcondicio dice che tutti i partiti hanno lo stessa dignità, lo stesso peso di fronte a un'elezione, quindi se Meloni e Schlein devono avere un'ora di tempo, anche tutti gli altri candidati devono avere mezz'ora ciascuno. Però a patto che il 51% dei candidati voglia partecipare a questi confronti televisivi e non si è arrivati al 51% in Rai perché Conte, il numero due della sinistra, e Tajani, il numero due della destra, si sono opposti per evitare proprio un confronto polarizzante tra Schlein e Meloni che puntava a portare via voti proprio a questi partiti. Perché in un confronto televisivo Schlein-Meloni, non è che la Schlein porta via voti alla destra e la Meloni porta via voti alla sinistra, un confronto televisivo fra le due avrebbe avuto lo scopo di portare via voti all'interno della propria coalizione. Questo lo hanno capito perfettamente Tajani e Conte, quindi Tajani nel centro-destra e Conte nel centro-sinistra, hanno detto di no, non si è raggiunto il numero minimo di capi politici per fare questo confronto ed è saltato tutto. Quando la Meloni dice che dopo di che ha dato fastidio a qualcuno, ne prendo atto, la realtà è vero, ha dato fastidio a qualcuno ma soprattutto ha dato fastidio alle regole perché le regole dicono che non si può fare. Lo faremo in altri modi. A questo punto la Meloni apre lo spiraglio a farlo in altri modi. Quali sono altri modi? Si può andare sulla 7, si può andare su Sky, si può andare sui social, si può fare un video tra le due in una sala da qualche parte, poi quel video la Meloni e la Schlein lo distribuiscono sui vari social, la Meloni lo mette sui social, la Schlein lo mette sui suoi e così lo si vede sui social che alla fine sui social la parcondition non c'è, parliamoci chiaro, non c'è. Quindi dietro quello lo faremo in altri modi, magari è solo un modo di dire della Meloni, lo faremo in altri modi o magari ci sta pensando nel farlo in altri modi perché alla Meloni e alla Schlein alla fine come vi dicevo prima interessa polarizzare il voto su questi due partiti per portare comunque via voti agli altri nelle loro coalizioni. Quindi lasciar perdere la possibilità di un confronto e di portare via voti agli altri è difficile da lasciar perdere. Grazie a tutti e arrivederci a presto.